questo qui è per il gruppo e per gli iscritti italiani praticamente questa sarebbe una torcia per risparmiare corrente cioè gas vedete torcia origine praticamente come funziona vi fa risparmiare vedete qua ci sono due bombole una bombola che vi fa risparmiare una bombola ma ci saranno tre se ne usate tre al mese ne usate due quindi risparmiate una bombola quindi se avete solo una bombola facendo la frazione 3 diviso 2 quanto fa ok quindi ricavate fatela l'operazione matematica 3 diviso 2 ok quanto fa 3 diviso fa 1,5 quindi risparmiate diciamo la metà c'è un 48 per cento e invece la potenza e la fiamma visto che abbiamo una lega che questa è una lega di argento e carbonio monoxido comunque una lega questa quindi ha un aumento di calorie di caldo quindi risparmiate circa la metà però la forza della fiamma è più forte adesso vediamo come qualcuno ha chiesto allora l'acqua calda calda l'acqua qualcuno ha chiesto come fare la mucca l'acqua calda l'acqua calda quindi senza pressare senza pressare perché alcuni la pressa non ci bisogna pressare fate la montagna c'è la montagnetta ci chiamo la montagnetta quindi vedete questa si va applicare sopra il fornello che ha delle schienicature e si accende la fiamma è bassissima bassissima guarda non c'è bisogno di mettere alta bassa guarda è più bassa quindi c'è un risparmio quindi andate a posizionare la caffetiera in maniera che non si squaglia qua ogni volta so che vi squaglia questa quindi la mettete un po' spostata allora vedete che qua c'è il primo caffè e questo lo mettiamo nella tazzina quindi con questo gli aggiungo uno due e tre questa quando diventa del colore del cappuccino cioè marroncina facciamo cappuccino con quello con il colore questa ci mette un minuto talmente calda poi si adesso va anche lì va anche lì vedete che già c'è un po' di cremina qua ecco la cremina poi la aggiungete qua ok e poi andiamo a versare il caffè caffè con la crema lo assaggiamo come in Italia ciao ciao se vi piacciono i nostri contenuti continuate a guardare e a iscrivervi ciao ciao